Prima di andare a Dollet, che si può già vedere lì all'orizzonte, vedete lì c'è la torre di trasmissione, su questa montagna sulla destra, prima ho intenzione di fare un po' di test, perché noi siamo SID ed è anche possibile salire di livello tramite un esame scritto, questa è una cosa che serve un po' per imparare alcune cosettine del gioco, un po' per, principalmente per guadagnare più soldi con lo stipendio. Ogni esame è composto da dieci domande e bisogna rispondere con sì e con no. Quando ero piccolo e pigro e non sapevo praticamente nulla delle domande che poneva il gioco, e fra parentesi internet praticamente non esisteva, quindi era anche impossibile andare a cercare le soluzioni su internet, Quando c'era tutta questa situazione io risolvevo questo enigma degli esami con un sistema, non lo so, io mi sentivo un genio perché facevo questa cosa. In pratica rispondevo sì a tutte le cose e poi prendevo nota del punteggio fatto. E di volta in volta andavo cambiando una risposta, senza neanche leggere la domanda, mettevo sì o no, e in base poi all'esito capivo, ok, quindi la prima la risposta era sì, la seconda no, bla bla bla. E niente, col passare del tempo poi mi sono fatto una lista con tutte le risposte, ma ovviamente è una cosa che non faremo adesso, voglio provare per la prima volta in vita mia, di tantissime volte che ho giocato a Final Fantasy VIII, a fare questo benedetto test, tutti i test che farò in maniera non disonesta, diciamo. Comando assimila, esattamente, ok, GF vuol dire? No, vuol dire Guardian Force. Gli elementi sono in tutto 8, sì. Battaglia tanto più alta del luogo di forza, tanto maggiore sarà il danno al recatto al nemico nei attacchi fisici, sì. GHP in abitati di tipo Junction. Eeeh, qua iniziamo le domande un po' tecniche, specifiche, particolari, boh, mettiamo sì, in caso se sbaglio. Non si può scegliere, qua l'abilità il GF deve imparare. No. No, nel senso negazione, no, si può scegliere, ok. Ah, ma già consuma MP, non esistono MP in questo Final Fantasy. Il GF può essere cambiato, sì. I personaggi possono indossare un equipaggiamento protettivo in battaglia, no. GF aumentano di livello con l'acquisizione di AP. No, non aumentano di livello, gli AP servono per apprendere le abilità. Uhu, hai preso 100 punti, è passato l'esame, è scritto livello 1, il tuo rango seed sale 8. Mi sento gasatissimo. Ne facciamo giusto un paio, mi pare che c'è un limite. Cioè, noi per ora abbiamo livello 14 con Squall, quindi credo potremmo arrivare solo a livello 14, o qualcosa del genere. Comunque non ne farò così tanti, giusto? Un 3-4. Facendo junction tra magia e resistenza, la resistenza del presagio aumenta, sì. No, non è il Gauntlet, è il Gumblade. Magia assimilate possono essere accumulate, sì. A ogni azione che si compi in status veleno, il proprio HP diminuisce. Se non si agisce, non si riceve alcun danno, no. È overtime. Se si viene colpito da un attacco fisico, lo status chaos viene annullato, sì. Un po' di cose me le ricordo, comunque, perché ho giocato molteplici volte. La tecnica speciale di Squall è a Ryuken, ma neanche per sbaglio. Per fare junction alle magie è necessaria un'abilità junction corrispondente al parametro che si vuole collegare alle magie? Un'abilità junction, nel senso che devo averla sbloccata, JHP, J-Forza, sì, sì, sì. Eeeh, dubbio. Credo di sì. Gli otto elementi sono fuoco, gelo, tuono, terra, veleno, vento, magia e sacro? No, magia non è un elemento, non... Aspetta, fuoco, gelo, tuono... Manca acqua, non c'è l'elemento magia. C'è un limite al mostro di... al numero di magie che si possono catturare dai mostri. Sì. Accidenti. Aspetta, forse non c'è un limite nel senso che... Puoi fare assimila e utilizza subito all'infinito, ok. Quindi l'ultima l'ho sbagliata, ma... Quale altra ho sbagliato? Forse questa? Wow. Quella sul veleno era sbagliata, quindi. Ok. Facciamo giusto un terzo, dai. Pozione, l'HP del GF no. Le magie si ottengono solo usando il comando assimilare no. Arma di selfie e l'uncia, QC. Gli armi possono essere migliorate solo pagando denaro. Penso proprio di sì, non te le regalano. Chi dà l'ultimo colpo in battaglia riceve il maggior punteggio di exp, sì. Più alto era il GF, sì. Vi dà comando sì. Un membro di un gruppo può avere fino a 5 abiti da personaggio e squadra. Penso di sì. Aspetta, attacco, GF, magia simila. No, aspetta. Attacco, GF, magia simila. No, è massimo 4. Massimo 4 abilità personaggio. Quindi, a prescindere da quante siano quelle squadra. Questa è sbagliata. Le abilità comando possono essere usate solo se assegnate prima al personaggio. Certo. No, è ability point. 90 punti, diamine! Forse è possibile ottenerle gratuitamente? Ok, wow, si possono ottenere gratuitamente. Non so in quale modo le armi. Ah, forse c'è un'abilità poi di un GF, vabbè. Questo è l'ultimo, prometto. Poi andiamo a Dollet. Solo Squall? No. Cioè, perché anche Safer. È un po' trabocchetto questa. Attacchi magici anche contro gli alleati, sì. Trasforma gli oggetti in magie, sì. Maggiore la resistenza, minori sono i danni fisici ricevuti, sì. Tecnica magia blu si apprende solo quando si subisce da un mostro, no? Dispel. No, Dispel... Allora, Esna cura gli status alterati come veleno. Dispel invece annulla le magie positive. Tipo Protect, che protegge da danni fisici. Shell, che protegge da le magie. Quindi no, non cura veleno Dispel. In caso di KO e status alterato, se si riattiva l'assetto da guerra, sparisce anche alterazione di status. Sai che non lo so? Non ne ho idea. Forse no. Nel centro addestramento del Garden c'è anche il mostro Archeosaurus. Eh sì. Gunblade diventa più offensivo premendo... No, non è L2. È possibile accumulare fino a 255 unità per ogni magia, no? 90 punti di amine. Ah, ok. Ogni tanto entro in confusione. Va bene, dai. Seed 11, non possiamo lamentarci. Fa uno strano effetto tornare qui a Tollet. Qui c'hanno questo canicello tipo medievale. Questa parte della città noi non l'avevamo vista durante la missione. Il Garden di Balamb? Ti sbagli? Qui siamo a Tollet. Se esci fuori città si vede. Allora Garden di Galbadia, forse voleva dire. È vicino ma raggiungerlo è un po' complicato. Oh, forse intendeva veramente il Garden di Balamb, solo che bisogna attraversare l'oceano. No, non voglio affittare una macchina, grazie. Dove andiamo? Vi faccio vedere il lungomare prima. E sono anche in dolce compagnia. Guarda un po' con questi tavolini tipo ristorante. Eh sì, infatti. Non so perché mi ha sempre dato l'impressione di un qualche paesino francese, Tollet. Ah, tu curo il mare. Ah, come mi sento bene. Ragionte mi scambio per un teenager, ma io sono un appassionato scuba diver. Il fratello è molto bravo a nuotare. Mi ha insegnato lui a fare scuba diving. Eh, questo lato invece lo conosciamo bene. Sei pronto? Per che cosa? Sì. Ok, ok. Dove ti sei cacciato? Sai che sta giocando a nascondire o male? Non so con chi. Ehi, hai visto questa città come è diventata più bella? È vero, è più bella. Eh, è tutto a merito mio. Qua hanno riparato tutto che è stato scassato dalla vedova nera. Guarda un po' la spiaggia di Luptana. Ci sono ancora i resti. Non ti viene un po' di nostalgia, Quistis? E in teoria tutto questo è successo l'altro ieri. Come linea temporale di gioco. Mamma. Ritorna a casa. Ah, poverina. Sarà un'orfana dell'attacco a Dollet, penso. Ah, mi sa che questo è il bambino che sta giocando. Zitto, non parlare, gioca a nascondire. Qui c'è una quest secondaria, ma la faremo più avanti nel gioco. Hanno riparato proprio tutto. Ma quando arriva? Gli ho detto di venire davanti al pub perché il caffè, dove ci vediamo sempre, è chiuso. Ah, mi sa che qui si sono dati appuntamenti piccioncini, ma c'è stato un fraintendimento. Il barista non mi vuole parlare, ok. Ha perso un cliente. Ah, si è girato finalmente. Prego, desiderate qualcosa da bere? Abbiamo il Silkis e il Mimet. Ma non siete un po' troppo giovani per bere? Quistis è maggiorenne. Un bicchierino dopo tanto lavoro è quello che ci vuole. Tanto chi? Tanto lavoro. Ma quale lavoro se stai qua da mattina a sera a ubriacarti? Ah ah ah, davvero. Infatti è così. Così come. È proprio vero, la città è più bella da quando è in pace. Sono venuta in questa città perché ho sentito che è piena di ricchi. Però, povera me, sono tutti ricchi ma sposati. E vabbè. Istigali al tradimento. Ho appena detto una cosa molto viscita, ma va bene. Lo conosci? Ma chi? Veramente no. Qui tutti iniziano frasi, non capisco, in maniera ambigua. Ora ti spiego, quel signore è il padrone di questo pub. Quando chiede cominciamo, lui intende una partita a carte. Perciò pensaci bene prima di rispondere. Ok. Voglio la rivista. Trovato vecchia edizione Timber Maniacs, l'ho letta. Cominciamo? Sì. Cominciamo? Comincio, ho deciso. Usi regole diverse. Le regole di Galbadia. Eh sì. Mano a caso, porca miseria. Fortunatamente ho poche carte, quindi con mano a caso mi capitano comunque carte buone, in teoria. Insomma, avete capito come funziona mano a caso. La regola elementale, invece, vedete che alcune carte hanno questi simbolini, tipo la fiamma o la carta che ha giocato lui, quelle bollicine velenose. Quelle carte possono guadagnare un bonus di più 1 a tutti i numeri che hanno, se vengono messi su un simbolo corrispondente. Se invece vengono messi su un simbolo con cui non c'entrano nulla, tutti i numeri perdono 1 di valore. Quindi in questo momento questa carta ha 4 in alto, 6 in laterale e 6 in basso. L'angelo ha perso 1 a tutti i lati, insomma, avete capito. Che faccio, eh? Gioco difensivo. Non è bastato. Accidentaccio. Mi sa tanto che ho perso. No, posso pareggiare. Ah, meno male. Uh, me la sono vista brutta. Ah, manca ancora un po'. Vediamo, di qua posso andarci? Quella è la mia camera, non entrare senza permesso. Va bene. Devo giocare con questo tizio perché possiede la carta di Siren. Ok, l'ho sconfitto. Vieni con me, ti faccio vedere la mia camera. Questa è una cosa positiva. La cosa brutta è che non solo non ha giocato Siren e quindi non l'ho vinta, ma ho anche perso Diablos. Quindi, poi dovrò farmi un po' di partite che non vi mostrerò per riprendermela. Nella rivista ci sono degli appunti. Mettendo sotto spirito Anaconda si ottiene un liquore eccezionale. Un giorno andai a caccia con amici e per poco non ci lasciamo la pelle. Bevi allora questo liquore ed era miracoloso. L'unica cosa è che ha un brutto aspetto. E per prepararlo ci vuole molto tempo. Ok. Non c'è niente di speciale. Libro sporco. Il vento era caldo il giorno che ci incontrammo. Per la prima volta nella mia vita con Obi la sconfitta. Anche l'estate stava ormai finendo. E io persi di nuovo. Perché è così forte? Un giorno la batterò, pensavo. Le foglie cominciavano a cambiare colore. E io continuavo a perdere e perdere. Ma per quanto tempo ancora? Mi chiedevo. Era sera. La neve era alta. E io, il perdente, le chiesi la mano. Non avrei mai creduto che sarebbe diventata mia moglie. Ora sono il suo schiavo. Devo fare qualcosa. Storie di vita. Sei il secondo vincitore che entra in questa stanza. Il primo è stato... Ma, lasciamo stare questa storia. Dividi tutto con coloro che hanno perso a carte. Era la morale dei guerrieri. Che altro posso dirti? Prendi queste carte se vuoi. Sono un po' vecchie. Sono un po' vecchie. Le ho usate io. C'è anche carte Gizzard. Quattro Redbutt. Tre Buell. Vabbè, un po' di carte... Schifose in realtà. Ti prego, non dire a nessuno che tu... Che sei stato tu il secondo vincitore. Sai, ho una certa reputazione da difendere. Io sì, ma adesso ridambi le mie carte. Ah sì, non c'è più la regola a mano a caso. Fortunatamente è stata abolita. Oh, finalmente l'ha giocata. Alcuni sono un po' resti a giocare la loro carta più forte. Però oramai ho deciso di intraprendere questa crociata. Che intraprendevo sempre nelle mie partite. Mi piaceva prendere anche tutte le carte. Cioè avere almeno una copia anche... Delle carte mostro. Però non lo faremo qui. Wow, 9 a 1. Ma le carte GF personaggio le voglio assolutamente. Eccola qua, Siren. Molto bilanciata come carta, devo dire. Non ha un assoluto, ma 9, 8, 6 in basso. Buona, buona. È praticamente Ifrid, solo che è spostata e roteata. E questa è fatta. Ah, qua c'è il tipo a cui è stata distrutta la macchina. Vedo che ne ha comprata un'altra. Non ci parla con me? Bella la mia macchina, eh? È nuova. Non toccare. Ancora non ho finito di pagarla. Ho anche i debiti di quella precedente che ho rotto. Poverino. Junk Shop per potenziare le armi, ma ancora non posso farci niente. Guarda, però, se è possibile, vorrei cambiare l'arma di Squally in quella di Reno perché fa un casino di danni, a quanto pare. Guardate un po' che bei posticini vi porto a visitare, eh, ragazze. Eh, mi ha fatto scendere di livello. Sì, questa cosa la fa spesso il gioco. Se tu sei a un livello che non piace al gioco, ti fa scendere, ma... Dovete sapere che il rango ha utilità solo per lo stipendio. Poi non serve a null'altro di niente, quindi chi se ne frega. Ma dov'è finita? La mia ragazza mi ha detto che sarebbe venuta qui. Guardate che c'è stato un fraintendimento. Proprio oggi che dovevamo cenare a lume di candele e andare in quell'hotel. Cosa guardi? Un incidente di strano, vattene. Va bene, allora forse devo andare a informare la tua ragazza che c'è stato questo disguido. Oggi mi sento di fare il cupido. È una città così romantica, Dollet. Mi piacerebbe vivere anche qui. Guardate, è bellissimo come è. Sembra proprio una piccola cittadina, metà fra paesino e città, ecco. Ma quando arriva, ho capito. Il ragazza è sempre così, precipitoso nel fare le cose. Ma è un lato che mi piace proprio. Vabbè, niente. Condannati a non trovarvi. Sono tipo a 20 metri di distanza, ma niente. Galbadia ci attaccherà di nuovo? Sì, è probabile. Non si accontenterà solo della torre di trasmissione. In realtà abbiamo scoperto che... Tutto questo assalto... Che abbiamo vissuto sulla nostra pelle... È stato fatto solo per la torre per fare questo annuncio. E io nel video precedente mi sono un po' interrogato su questa cosa. Cioè che in teoria le interferenze dovrebbero esserci comunque anche se questa torre funziona. E invece, molto semplicemente, è che la torre riesce a scavalcare queste interferenze perché è molto potente. E tutta questa storia è stata fatta per annunciare questa ambasciatrice, la strega. Anche i soldati di Tollet fanno tutto quello che ordina Galbadia. È una situazione un po' simile a quella di Timber. Benvenuti nel nostro hotel. Fermere te qui da noi? Ci fermiamo una notte. Onoratissimi siamo. La ragazza mostrerà le stanze a Vsia. Ok. Letti separati ovviamente, non fatevi idee strane. Però sono venuto qui, a parte per mostrarvi gli interni dell'albergo di Tollet. Perché c'è un'altra rivista, Timber Maniacs. Ah, ok, non si esce di qua. Grazie a molte, sarà sempre un piacere avervi ospiti qui da noi. Troppo bello questo tema musicale. È un waltzer ed è bellissimo come l'altro tema musicale, sempre a mo' di waltzer che si sente nel ballo fra... Ma c'è di squalleri, no? Soldato di Tollet, ingresso consentito solo all'esercito di Galbadia. O forse no. Ehi, ma non hai proprio nulla da fare tu, eh? Ecco, consentito l'ingresso solo ai soldati di Gal. Ah, un crampo al piede. C'ha la sindrome di laguna. È la nostra occasione. Facciamo irruzione. Inizia questo motivetto furtivo furtivo. Anche questo ponte è bellissimo. È bellissima, Dollet. Continuo ad aumentare il livello di difficoltà della domanda dove vivrei se fossi in Final Fantasy VIII. Perché Balamb ha il fascino del posto di mare. Dealing City è il fascino urbano, anche perché si vede sempre di notte Dealing City. E non lo so, diventa ancora più suggestiva. E qui c'è la tranquillità, il posticino... Un po' a metà proprio tra Balamb e Dealing City. Vedo che i mostri ci sono ancora. Ah, ok. Tutte galbadiane. Ah, a proposito. Visto che ci siamo. Vediamo finalmente di fare scan a Quistis e a Rinoa. Magari si sente un po' a disagio Quistis. Si starà domandando ma perché caspita mi stai facendo scan, Squal? Usa la frusta. Ma in casi critici anche le tecniche apprese dai nemici. Dai mostri, scusate, non so leggere. In Accademia esiste un suo fan club. Facciamo venire anche a lei il mal di testa. Ok. Vediamo che danni fa adesso che le ho messo Junction. Eh, vabbè, questa ammazza tutti. Rinoa, membro del gruppo Resistenza Goofy del Bosco di Timber, usa una speciale arma da tiro che fa un puttanaio di danni ed è spesso aiutata dal proprio cucciolo. Col suo vestitino. Penso che la fascia nera, scusatemi, che ha sul braccio sia lì per il lutto, cioè per un lutto. E poi vedete ha delle mesce marroni nei capelli. Almeno credo sia per un lutto, per la fascia. Oh! Incredibile, abbiamo una seed ex insegnante, un neo seed diplomato con buoni voti ed entrambi vengono surclassati da questa giovinetta. E va bene. Il mio orgoglio non è per niente sotto i piedi, no, proprio sto benissimo. Ehi, evitato l'ingresso al personale, non ha detto. Lo so, sono qui per voi. Ah, davvero? Bene, fatevi avanti. Vieni, RoboSpring001. Ops, piccolo imprevisto. Co... come? Svelti, passiamo al prossimo. Vi avvieni, RoboSharp002. Perché tutti gli incompetenti sono nel mio esercito? Idioti. Beh, a questo punto io... Fate finta di non avermi mai visto. Sì, ci sono un po' di cose senza senso, umoristiche, divertenti, anche in Final Fantasy VIII. Questo coso adesso rimane qui e blocca il passaggio. È impossibile tornare... ...alla torre di trasmissione, però volevo giusto mostrarvi... ...questo pezzettino. E niente, questi robottini sono... ...dei disastri, non... ...non hanno nulla a che fare con l'originale vedova nera che ci ha dato un po' di filo da torcere. Beh, lì è stato un po' complicato perché... ...ve lo ricordate, sono stato io a rendere eccessivamente difficile quella situazione. Tra l'altro è possibile... ...distruggere proprio... ...la vedova nera. Solo che se si fa così non si assiste al filmato in cui è Quistis a farlo esplodere, ovviamente... ...perché sei già morta. Oh! Quanto pare ogni tanto arriva da solo... ...a dare una mano il piccolo angioletto. Ok, facciamo finta di niente. Ah, avevo perso i sensi. Ok, sembra che non ci sia più nessuno. Purtroppo non si può visitare il ristorante italiano di Dollet. Sì, sì, ho capito. Ciao. Va bene, ci siamo fatti un giretto turistico. Ah, lì sullo schermo dovrebbe vedersi il simbolo di Dollet, credo. Quando si accende. Esatto. Dai, ditemi che non è un bel posto, Dollet. E purtroppo è caduta un po' vittima anche lei... ...delle mire di conquista di Galbadia. Badia anche se è una situazione un po' diversa da quella di Timber perché mantiene la sua indipendenza solo che ha perso la torre di comunicazione cioè poteva andargli peggio a Tollet effettivamente ora fatemi tornare indietro alla stazione accademista a piedi ok vedete il garden si trova si intravede già da qui dietro questa montagna vedete il cerchietto simile a quello che è il garden di Balamb quindi dobbiamo attraversare questo boschetto ma prima fatemi salvare ormai manca poco al garden di Galbadia ci stavo pensando adesso ma se il governo di Galbadia comunicasse al garden quello che abbiamo combinato saremmo catturati e trasmessi in tv in tutto il mondo si è tipo autostrangolata ci penseremo quando sarà il momento ora muoviamoci eh se lui non vuole affrontare l'argomento perché pensa ancora al fatto che è esatto chissà come va il garden di Balamb se è successo qualcosa è tutta colpa mia comunque vi ho già detto il garden è un corpo separato dall'esercito di Galbadia per questo loro stanno andando lì però devo dire che il timore di selfie ha comunque senso perché non è detto che il governo di Galbadia non abbia allungato le sue i suoi tentacoli di potere di influenza anche al garden di Galbadia ma sono io che ho detto che venivamo da lì pensi che il presidente compierà rappresaie contro il garden forse 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 però nel garden di Palamb ci sono moltissimi seed non perderemo contro Galbadia vero dipende dalla forza dell'esercito nemico è vero ma se l'è scrollato di dosso se proprio un grande capo tu come fai a distruggere le speranze di un compagno di squadra oh no ricomincia se l'ha bisogno di una parola di incoraggiamento è molto strano perché quando spunta rinoa c'è questa scena c'è quando spunta nel gioco e loro si conoscono pur non conoscendosi squall e rinoa e ballano c'è questa impressione ok squall è un tipo molto introverso arriva questa ragazza e in qualche modo forse riesce a fare breccia nella sua corazza diciamo di asocialità poi però quando loro si rincontrano uno impara a conoscere rinoa vede come interagiscono i due personaggi cambia completamente scenario perché vedete sono molto incompatibili almeno per ora il futuro è incerto ma sono molto incompatibili non sono affatto sulla stessa lunghezza d'onda spesso loro due zella ha bisogno di una parola di incoraggiamento e ti pareva dove è finito il romanticismo del ballo la sera a balamb non ti preoccupare forza perché non ti sforzi un po' è solo un modo per illudersi possibile che lo capisca solo io no anche seifer gli daresti nuovo coraggio nuova energia per tirare avanti a cosa serve farsi consolare dagli altri come fai a non capire che rompiscatole allora mi stai a sentire squall oddio no di nuovo questa sensazione grazie rinoa mi ha fatto venire il mal di testa hai fatto pure addormentare quistis e anche selfie ah anch'io selfie si è andata proprio a gettare in un cespuglio ma che succede si sono annoiati a morte del tuo discorso sono finiti nel altro mondo l'altro mondo è un po' ambigua come frase potrebbe significare che siamo morti e invece no vuol dire che siamo tornati di nuovo in quello strano sogno con laguna kiros e ward kiros sicuro che era qui sicurissimo evitiamo di girare a vuoto come l'altra volta qui sono sbagliato non è questo il posto il solito imbranato impossibile hai detto un attimo fa che stando alla mappa il posto era questo ricontrolla la mappa ho sbagliato mappa ho un brutto presentimento non è una mia impressione che strana sensazione c'è qualcosa di strano come dice il proverbio non c'è profumo senza fuoco vorrei dire fumo fumo senza fuoco sbagli sempre i proverbi state un po' zitti piuttosto controllate l'equipaggiamento adesso andiamo si sono un trio un po' bislacco soprattutto è laguna che è un po' imbranato anche se è il capo diciamo di questa pattuglia di galbadia chiamiamola così e a quanto pare adesso vedremo un altro pezzo delle loro disavventure area scavi centra è un luogo che ancora non abbiamo visto con squall e gli altri fatemi controllare junction ok ci ho messo un pochettino a capire chi era chi e chi doveva prendere quale junction però ho sistemato c'è laguna che cammina in maniera un po' strana tutto ingoppito no davvero questo posto è strano che diavola è questo ammasso di rocce non sembrano naturali non sarà mica una pietra tombale a proposito di cose strane perché prima correvi in quello strano modo che c'era di strano procedevo solo con cautela un soldato di estar prima volta che leggiamo questo nome ancora con quell'uniforme ridicola effettivamente sembra un power ranger laguna tranquilli grazie ah Ispezionare solo la zona. Non era questa la missione? Perché allora è finita così? Io davvero non credevo. Si sono un po' strani i soldati di Astar. Non mi va di usare i GF per questi insetti. Ah, c'è una cosa che non ho fatto. Scanna loro tre. È vero, rimediamo anche a questo. Guard, potente guerriero che utilizza un pesante arpione nel combattimento. In casi critici usa un'incredibile tecnica speciale. Incredibile nel senso proprio del termine, cioè è INCREDIBILLE, non credibile. Laguna, forte e premuroso. Arma preferita, mitragliatore. Nel caso... Nei casi critici spara raffica per difendere i propri compagni. Chiros è il mio preferito sinceramente per lo stile di combattimento. Guarda come ondeggia. Con quelle lame. Impugna due lame affilatissime chiamate Katal. Wow, non lo sapevo. E il combattimento... O non lo ricordavo più probabilmente. Il combattimento impone il suo stile peculiare grazie a queste armi. Eh sì, il suo limite fiume di sangue è bellissimo. E stanno arrivando altri. Non finiscono più. L'unica cosa è fuggire. Io ce l'ho incontri... Meno 50? Sì, perfetto. Ah, fra parentesi. Fino ad ora non ho mostrato Diablos perché... Il suo attacco è un po' particolare, ve lo spiegherò a tempo debito. Eh, non vedo l'ora di prendere... Incontri zero. Sono anche resistenti questi. Servono tre attacchi per usciverli. caos! Uh uh! Andiamolo a Word che c'ha la build magica. Sette caos! Questo posto è strano! È una sorta di cava di cristallo Accidenti, la leva dello sportello è allentata Ho capito Se usiamo questo, i soldati di Aesthar non ci seguiranno più Che stai tramando? Sarà qualche altra stupidaggine Voi due scusatevi immediatamente Vi prendete gioco di un genio e ve ne pentirete E chi sarebbe il genio? Stai un attimo zitto La leva dello sportello è rotta Io la allenterei ancora un po' Così quando i soldati di Aesthar ci saliranno sopra Sì, bravo, proprio così Mi è capito al volo Quelli non sanno niente Salgono sopra e kablam cadono giù come imbecilli Ammettetelo, sono un genio Certo Dice che i soldati di Aesthar cadranno nella trappola? Non lo sapremo mai se non ci proviamo Ricordate, chi dorme non piglia pesci Wow, l'ha detto giusto E io prenderò i miei pesci L'unica cosa è che se muoviamo la leva non si può più passare di là Ma cerchiamo di non cadere noi nella trappola Allora, proviamo a muovere la leva Sì Ragazzi, allontanatevi È pericoloso Ora casca quella dove stanno loro due Sarebbe il massimo della comicità Io credo che così Tutto questo per sbarazzarsi di un soldato di Aesthar Qua è tutto bloccato È caduto qualcosa Allora è comico Ho tenuto vecchia chiave Me la metto in tasca Ma Ho un buco nella tasca posteriore Non si trova Ma non importa Non moriamo mica Laguna ha perso vecchia chiave Non ho mai capito qual è il senso di questo evento Vedete ci sono un sacco di impianti C'è Qualcuno ci sta lavorando qui Area scavi di centra E ci sono truppe di Aesthar Vedete qui riconduce a dove eravamo prima Era giusto per mostrarvelo Ah Ai 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 Cos'hai? Ah Un crampo alla gamba Tanto per cambiare Ora sto bene Fiu Meno male è passato Mi capita quando sono fuori allenamento La battaglia di prima Non ti è bastata come allenamento Eh? Cosa? Ah Niente Di là ci andiamo dopo Ehm Di là ci andiamo dopo C'è anche un giardino interno Molto strano questo posto Ah ok Vabbè Non ricordavo spugasse di qua Per me facciamo il giro Ok perfetto Wow Attenti Vedi cosa succede ai bambini come te Che toccano tutto State calmi Non ti sta neanche bene Grazie a me abbiamo detto Addio ai soldati Alla rupe in una volta E così Due colombi con una fava Sono proprio un genio Colombi Volevi dire piccioni Molto suggestivo Questo posto Con il suo tema musicale Grazie a tutti. Ma che diavolo è? Un interruttore rosso, uno blu e due micce? Non sarà mica un dispositivo esplosivo? Ho capito. La miccia corta blu è per questo masso, la miccia lunga rossa è per quel masso lontano. Laguna non starei mica pensando di usare qui e ora una dinamite di cui non conosci la potenza distruttiva. Non credo sia molto potente, se stava qui vuol dire che non è pericolosa, no? Effettivamente. Dunque, facciamo prima il masso lontano. Se uno fa prima quello vicino poi il filo di quello lontano si rompe e non si può più usare. Lo spostamento d'aria non arriverà fino a qui. Che cosa? Aia! Mi sa che ha fatto una brutta fine. Caspita che buato! Chi si aspettava una cosa simile? Cosa avevo detto? Se non sapete qual è il potere della dinamite, controllatela prima. Quello l'ho detto io. Vabbè, vabbè, è uguale. L'importante è che siamo vivi. Facciamo il masso vicino. Ah, attenti all'esplosione. Fuggiamo. Hanno messo il turbo tutti e tre. Si è sentito un rumorino proprio piccolissimo. Tutto qua. In genere non c'è un forte spostamento d'aria. E l'avevo detto che non era un granché. Ok, tutte queste cose le abbiamo fatte per ridurre la popolazione locale, diciamo. Dei soldati di Estar che ci sono qui. Così ne incontreremo molti di meno. È il punto di uscita. Questo posto è strano e misterioso. Ah, peccato. In questo posto si possono trovare anche altri mostri. Cioè, questi non sono mostri, sono dei soldati. Utilizzo sempre Fire. Questa volta facciamo Thunder, dai. Almeno cambiamo un po'. Gli fa anche più danni. Shiba ha preso J-Ress. No, Shiba ce l'ha, abbiamo detto, sì. Junction magie. No, facciamo auto. Vabbè, tanto so già che... Mmm... Beh, io ho messo... Cioè, priorità magica. Vediamo che fa. Ha cambiato Shell, ha messo energia. Vabbè, così è una cosa più bilanciata. Ok, approvo. Vabbè, così è una cosa più bilanciata. Ah, finalmente è fuori. Non mi dire che... Eccoci... Risiamo. Aia! Blizzara! Wow, che impaciccia avete, scusatemi. Ma non ce l'hai, Blizzara? Porca miseria. Non ce l'ho il limite. Quanto pare no. In un certo senso anche loro hanno un gun blade, perché vedete, è sia pistola, sia lama. Eh sì. C'ha questa abilità speciale che quando muore fa quell'attacco e le... E riduce due personaggi a uno di vita. Tutta questa cosa è fatta per... Tipo dire che loro tre se la sono vista molto molto brutta in questa spedizione. Si sono ritrovati a Centra a indagare su questo esercito esteriano. Guardate il mare, siamo salvi. La fortuna è dalla nostra parte, possiamo fuggire verso Galbadia. Veramente questo si chiama avere le spalle al muro. Non dirlo, sia vera. Non te l'ha detto la nonna da piccolo. Ah, che se dici qualcosa di brutto poi si avvera? Cosa dici? La gola. Sembra che non riesca a parlare. E sta... Che cosa... È stato bello, Kiros e Laguna. Ehi, ma che diavolo dici? Punizione. Ti meriti il solletico. Si è un po' stupidotto, Laguna. Parliamoci chiaramente. Allora, ne vuoi ancora? Puntini, puntini. Ve l'ho paleso io, perché è una cosa che vi posso anticipare. Praticamente ha perso la voce. È in teoria una cosa che gli è successa per via dello stress, del trauma, insomma, di tutta questa situazione. Ripeto, il gioco forse non... Non lo dice in maniera chiara, ma insomma, questa spedizione è stata molto stressante, molto faticosa, ricca di problemi per loro. Anche se, come vedete, uno può farcela senza alcun problema. Comunque, a seguito di tutto questo stress, questo trauma, gli ha preso non so come a guarda e niente, gli è sparita la voce. E vi spoiler anche questo, perché tanto è rilevante. Questa cosa che lui perde la voce non ha assolutamente utilità, diciamo, all'interno del gioco. È una cosa che hanno messo così, tanto per niente. Guarda, ha perso la voce. Wow. Ehi, una nave. Saliamo su quella, ragazzi. Barca, laguna. Quella è una barca. Nave, barca. Che differenza fa? Saliamoci e torniamo a Galpatia. Forza, alzatevi, ragazzi. Andrà tutto bene, vedrete. Sì, non c'è neanche una battaglia con un boss e i nemici, come vi ho detto, uno può evitarli. E guarda, ha fatto un grande schizzo quando si è tuffato. Non c'è neanche un boss e i nemici si possono evitare, quindi questo pezzo non ce la fa ad esprimere questo concetto che loro se la sono vista brutta. Però è così. Siete coraggiosi, ragazzi, saltare da qui è da pazzi. No, non ti conviene. Ah, Banzai! Ah, e l'ha sbattuto tipo la testa, magari. Che ne sarà stato di laguna, Kiros Award? E di nuovo è stato un sogno collettivo, quindi questa è la riconferma che è qualcosa di veramente, veramente strano. Ancora laguna? Laguna era in pericolo. Che gli sarà successo? Anche loro tre iniziano a... Cioè loro, perché adesso ovviamente chiederà anche Quistis, insomma coinvolgeranno tutti. Iniziano a capire che forse non è un sogno. Al di là della stranezza che è una cosa collettiva. Forse non è un sogno, forse è una cosa reale. Magari loro... Smettono di essere loro stessi ed entrano nel corpo... ...di altre persone che contemporaneamente stanno vivendo quelle cose in altri punti del mondo. È un'ipotesi, no? È comunque una cosa strana. Non è la prima volta che capita? Cosa significa? Beh, per lei è la prima volta perché... Capitato a Squall, Zelle e Selfie. E sì, c'è anche questa cosa. Se fosse capitato di nuovo a loro tre, uno avrebbe detto... Beh, magari c'è qualcosa che non va in loro. Invece stavolta è capitato anche a Quistis, quindi... La stranezza nella stranezza. Se capitasse solo a me penserei che si tratta di uno strano sogno, esatto. Ma è inutile perdere tempo a pensarci su. Andiamo avanti. Andiamo, fra un po' arriveremo. Scusa, Squall. Prima ho esagerato. Non importa, dai. Eh, però questa è una cosa che sta pensando. Perché non lo dice a voce? Perché non parli? Perché non esprimi? Ah, Squall. Ti voglio tanto bene perché sei... Stato e sei un pezzo... Della... Della mia infanzia. Le mie prime esperienze con i videogiochi, eccetera, eccetera. Però... Come ho già detto è strano rigiocarci dopo tanti anni e vedere un po' certe sfumature caratteriali con un occhio diverso, magari un po' più critico, un po' più tutto quello che volete. Ok, siamo più o meno a due passi dal garden. Eccolo qua, dietro l'angolo. Eccolo qua, dietro l'angolo. Eccolo qua, dietro l'angolo. 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 Eccolo qua, dietro l'angolo. Tengo un po'ство di sc dürfen. Eccolo qua, dietro l'angolo. Dice, cari forti�o ilіт benibili. Acolo qua, dietro l'angolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.